Traforo del Partenio per collegare in 12 minuti la Valle Caudina alla 16 ai territori del Baianese e del Vallo di Lauro. L'idea del Presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha sollevato un vespaio di polemiche. Contrari l'Associazione Avellino Città Ideale, il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Erminio Petecca, il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista, Tony Della Pia, con il Consigliere del Governatore De Luca per le aree interne, Francesco Dodisco, che ribadisce la sua posizione. Mentre il Consigliere regionale Enzalaia si affretta a precisare che si tratta di una posizione personale e che le critiche di Dodisco, secondo il quale la realizzazione del Traforo non gioverebbe alla Valle Caudina, al Baianese e a tutte le comunità erpine, appaiono piuttosto surreali. Io sono profondamente in disaccordo e sono anche un po' sconcertato dal fatto che tanta parte della classe dirigente di questa provincia non dica niente, credo per convenienze politico-elettorali. C'è da dire un grande no, ma non un no pregiudiziale ed ideologico rispetto a una nuova opera, ma fondato sul fatto che i cittadini di quei territori non avvertono assolutamente come prioritario il bisogno di quella infrastruttura. Sono altre, per Dodisco, le priorità della zona. La rifunzionalizzazione della ferrovia Napoli-Benevento che passa per la Valle Caudina che è stata saltata nel nuovo tracciato immaginato e in corso di realizzazione dell'alta capacità Napoli-Bari con corse più efficienti, con un ammodernamento complessivo di quella struttura che risolverebbe la questione del collegamento verso il capoluogo regionale e verso Benevento. E riguardo invece il collegamento verso la città di Avellino c'è un'opera in corso che deve essere completata che l'asse attrezzato a Valle Caudina-Piano d'Ardine. Mentre ci sarebbe un'altra problematica sulla quale intervenire con più urgenza. Oltretutto le cose che sono accadute nelle ultime settimane, il disastro che è accaduto a San Martino-Valle Caudina, ma anche nella Valle Caudina complessivamente, ci dice che c'è un'esigenza di messa in sicurezza della montagna che per troppo tempo è stata trascurata, che è molto più importante.